Il rimpasto della giunta regionale è cosa fatta. Il governo abruzzese cambia assetto e questa è la conseguenza della sconfitta alle amministrative di Chieti. Nel capoluogo tetino, l'oramai ex assessore Mauro Febbo si era schierato contro il candidato leghista di Stefano, formando una lista civica che si rivelò l'ago della bilancia del primo turno. I vertici del carroccio sono così andati su tutte le furie che nemmeno il governatore Marsilio ha potuto placare. Febbo fuori e al suo posto un altro forzista, Daniele Damario, che assume le deleghe al turismo e alle attività produttive, mentre l'ex assessore è divenuto capogruppo dei berlusconiani. Damario però non è un membro del consiglio regionale e lo statuto pone un limite al numero degli assessori esterni. A farne le spese è stato il leghista Piero Fioretti, assessore esterno con deleghe altrettanto importanti, quella all'istruzione, quella al lavoro e quella al sociale. Al posto di Fioretti entra Pietro Quaresimale, già capogruppo in regione della Lega. E' così sottoscritta una tregua all'interno della maggioranza abruzzese. Il tempo ora dirà se l'armistizio reggerà fino a fine mandato. A ogni modo in un momento di crisi sanitaria, sociale ed economica come questo, il presidente Marsilio, che era rimasto schiacciato nei litigi tra alleati, è sicuramente il primo ad essere soddisfatto per la chiusura di questo capitolo. Ai nuovi assessori l'augurio di una proficua attività nella certezza che sapranno essere all'altezza del compito loro affidato. Questo è il messaggio di buon lavoro da parte del governatore della regione Abruzzo.